L'R28 Selezione Luber è una barca versatile sia da pesca che da campeggio nautico, è un gommone cabinato con una metratura importante ma anche carrellabile. Viene costruita come di base da pesca e con una semplice kit di montaggio si può trasformare in un gommone abitabile, si inserisce una panca a ferro di cavallo e hai tutti i comfort per un gommone a campeggio nautico. Abbiamo questa trasformazione che ti riesce a portare la famiglia a bordo con la panca, abbiamo una bella sottocoperta cabina con un letto matrimoniale di misure importanti, infatti è lungo 1900, largo 1400 e ospita anche un bagno separato. Questo natante può portare due motorizzazioni come abbiamo detto per la pesca perché i pescatori vogliono velocità e rapidità ma possiamo partire già con un 250 cavalli monomotore e quindi hai anche dei costi minori di gestione.